E' stato inaugurato sabato scorso a Ponte Sasso il nuovo depuratore dopo un intervento di un milione e mezzo di euro che ha consentito di raddoppiarne le capacità per rispondere alle esigenze dei 18.000 abitanti, del comprensorio e dei numerosi turisti. E' un depuratore costruito con delle modalità completamente nuove, modulare, quindi in grado di soddisfare le esigenze sia dei residenti durante la stagione invernale che durante la stagione estiva. C'è stata sempre da Aset una massima attenzione sia alla tutela dell'ambiente e quindi anche di tutto quello che riguarda il monitoraggio delle acque reflue e dei primi riscontri dal punto di vista delle analisi effettuate sul rio Crinaccio, i riscontri sono estremamente positivi. Oltre che Torrette e Ponte Sasso di Fano, i vantaggi dell'intervento interesseranno sia una parte del territorio di San Costanzo sia i quartieri di Marotta che sono passati al comune di Mondolfo dopo il referendum. Grande la soddisfazione del sindaco di Fano Seri e del presidente di Aset Reginelli per questo intervento completato in poco più di un anno e che costituisce una risorsa importante per il turismo in quanto tutela la balneabilità delle acque del nostro mare. Quindi come sindaco non posso che essere soddisfatto, ancora una volta dimostriamo che questa attività amministrativa è un'attività amministrativa concreta e che ancora una volta raggiungiamo un obiettivo e diamo una risposta concreta ai cittadini che rappresentiamo. Grazie Grazie